a bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con voi ci sono io polo beh oggi siamo in un nuovo video siamo su the seven day to die ragazzi oh cosa 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 ho trovato ho trovato un lavoro strano ebbene niente volevo dire che ho deciso di provare questo giochino nuovo che l'avevo già provato una volta ma tante di quelle volte fa che ormai sono usciti un sacco di aggiornamenti nuovi se ci provo a giocare e spero vi piaccia questo gioco perchè a me sinceramente piace abbastanza perchè un po' somiglia a minecraft solo che è più hd diciamo da più carino qua trovo subito una torcia vediamo se funziona almeno beh va bene mi fido funziona però ragazzi è un gioco ancora in fase di alfa perciò potrebbero esserci qualche c'è qualche lag oppure cose cos'è? usa la minigun? no non è la minigun non lo proviamo qua questo è sicuro ci ne andiamo perchè guardate piuttosto che star lì con zombie che spavano random come in minecraft ragazzi meno due palle adesso perciò perciò vai 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 vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua mi piace sei tu dai vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua sono delle belle persone ragazzi però adesso le nostre salade si separano qua vum 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 ok ragazzi questo è il posto che mi piace perchè questo biome è molto carino e lo conosco abbastanza bene perchè tra tutti i biome che ci sono questo è il migliore davvero perchè sembra il più normale ci sono nevi deserti una classica pianura diciamo ma quel secondo martello che trovo mi serverebbe un pickaxe ragazzi un piccone adesso vado a vedere oh lì che bello c'è una casina solo che di solito di fianco alle casine ci sono sempre dei rompiscatola il malvagio di com?! ecco infatti qui malvagio di zoo vaicd e io c' la moto moto taglia tutto stai dotata dai sbrigati 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 bene 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 abbiamo una fascia mannaggia età sei brutto schifoso orribilante eccesso schifosi, cessi, ambulanti no, no, cos'è, cos'è sto lavoro, cos'è oh, mi piace, mi piace I like it mannaggia voi, oh ma cos'è sto lavoro bello, adesso vediamo cosa aveva sto ciccione qua schifoso, ha anche lui una torcia sto essere bagguto non c'è niente sti lavori qua benzina spreca, questa è carina però saxi zombie no, 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 tu no, tu non sai saxi neanche tu oh basta, come on schifosi schifosi schifoso no, vabbè ciao proprio, perché qua ci metto due anni ad entrare in sta cosa bene così che si entra in una casa, ragazzi se vediamo di trovarci qualcosa di utile perché se lo sai ho spiegato un po' di benzina per noi sto lavoro qua ma qua troviamo un qua insomma una sacca di diciamo così polvere da spada qua è vuoto e ci sono due zombie oh, una scoreccia di vita in pratica ogni colpo potrebbe cioè anzi un colpo potrebbe stendermi all'istante faccio mai tenersi tenersi alla larga che ho questi posti qua ok, adesso provo a bere un po' di sangue perché sono un vampiro e lui lo beve ma che schifo che mi fai boh, lui beve il sangue perché lui può bene con questo possiamo dire che il mondo fa schifo ok ragazzi adesso vi faccio vedere un po' dove di solito mi stabilisco io in questi casi qua ovvero qui qui dietro perché secondo me è il posto migliore dove stabilirsi adesso prendiamo una bella pala in mano e facciamo questo movimento a questo punto forse velocizzo il video per renderlo un po' più veloce bene li 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 noti del sangue questo scato questo facciamo veramente vuol dire quello di mind adesso vediamo cosa ne vede che vuole questo lavoro ma anche un po' più molto movimento insomma qua è un po' meno cuboso diciamo però ha i suoi vantaggi questo lavoro perché sarà un po' più eristico ok oh la sua è un po' più scendiamo qua di basso guarda la roccia gioco pertanto per questo motivo scriviamo un po' dritto la colazione è trattata si va in vera bene andiamo avanti come on molto bello anche a tassa è molto sexy ok zombie sexy adesso proviamo a curarci un attimo che sono veramente messo male con la vita ma e poi un'altra cosa che dobbiamo prendere è legno ragazzi perché legno servirà molto schifoso ma è spaventato ti rendi conto ma è spaventato brutto schifoso sti zombie schifosi ragazzi guardate un lavoro insopportabile lì ce n'è un'altra sexy anche lei adesso appena è finita di far fuori quest'albero vado a visitarla perché è sexy ce n'è un altro qua anche lui è molto sexy sexy gesti rumori schifosi va bene ritorniamo al scavaggio se si dice scavaggio nel nostro bunkerino ok allora continuiamo è un lavoro veramente molto complicato e richiede molta pazienza che noi non abbiamo però ok ho scavato no questo bene continuiamo lollipop lollipop bene come ho già detto è molto faticoso con il lavoro infatti serve faticare molto ma ce la possiamo fare allora qua ho scavato sì più o meno ci siamo adesso largo un po' il buco perché così ci sta più cose ok più o meno già osomiglia a un posto kazakhistano adesso lo velocizzo un po' anche qua il processo bene con calma si fa ecco sì con calma sì però anche un po' di calma un po' meno calma ci vorrebbe perché stare un'ora così a scavare una minierina è noioso adesso faccio questi muri poi vado in una città a vedere cosa c'è di bello tra l'altro tra l'altro sento zombie che respirano va bene vai vai finiamo l'ultimo dai dai manca poco ok qua e poi abbiamo finito vai l'ultimo questo è il nostro bunkerino molto carino adesso noi ragazzi andiamo a vedere un posticino carino che si trova qua vicino ho avuto un problema tecnico perché quel shift del cavolo si preme sempre quando gli pare a lui cioè nel senso lo premo io ma il computer me lo segnala come errore del sistema perché dice che lo premo troppe volte ma avete capito insomma capita anche a voi secondo me e adesso noi intanto stiamo camminando per raggiungere la città perché so che c'è la città di sicuro ho che c'è un zaino aspettate aspettate decomposing backpack un zaino in decomposizione bello un po' di proiettili adesso troviamo anche un'arma di sicuro me lo sento possiamo essere a posto bene anche abbiamo bevuto dei anti dolorifici solo che sto debitando del fatto che stiamo andando in città perché sono perso sinceramente allora qua c'è la strada ah ok ho trovato la città ragazzi adesso lo vedrete la città è in pratica dietro questa collina ecco infatti come vedete ci sono già i tetti di casa ecco qua molto belli solo che qua bisogna essere veloci e prudenti perché ci sono un sacco di zombie un'ascia molto sexy ok veloci veloci divano ci serve perché ce l'abbiamo già ci servirebbe ecco un'arma un letto anche un letto mentre noi troviamo solo colpi di armi da fuoco che non possiamo usare allora ci craftiamo dei vestiti adesso vi faccio vedere in che modo si crafta un vestito in questo gioco stupidissimo bisogna prendere in pratica il materiale con cui si fa il vestito in questo modo rompendo con un'ascia un ecco rompendo con un'ascia delle tende e poi con queste tende qua potete fare estivali giac quello che volete ma se lo vedrete ci sono quasi questa qua è la parte più noiosa che per prendere una cosa in questo gioco ci vuole molto più tempo che in minecraft però almeno in compenso è più hd il gioco e non ci sono cubetti proprio cubetti cubetti questo sembra un bagno ecco esatto qua invece c'è una specie di cassa strana no i cani no ragazzi i cani li odio schifoso 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 non ti sopporto schifoso zombie dog non c'è no rimani lì adesso prendiamo altra tela bene dai ci manca poco poi facciamo una balla jack che fa anche da armatura sento rispiri zombie e fanno così ok abbiamo preso quello che ci serviva premiamo i andiamo su plots e facciamo una una bella giacca ok in questo modo anche se sembra più un piccone anche qua craft solo che qua bisogna aspettare del tempo prima che una cosa si crafta in questo modo ok dai 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 sbrigati sbrigati bene ragazzi ecco abbiamo preso la nostra giacca ok c'è rafter giacca e la mettiamo qua ecco ci da tipo dell'armatura in questo modo diciamo una cosa molto pro adesso non so allora andiamo giù perché questa casa abbiamo come dire vista tutta una tv che non posso pre oh via 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 che non si sa mai sti schifosi vermi schifosi ci butta in giù dentro chiudi 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 ok vediamo l'unboxing cosa fu corri 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 stessa cosa qua non c'è niente no i ciccioni no io i ciccioni li odio perché i ciccioni allora qua è vuoto bene un'arma per favore un'arma eh ciao ecco via 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 dai ciccioni leviamoci corriamo allora chiudiamo tutto ho chiuso sì ho chiuso bene sento un po' più al sicuro anche se essere sicuro in questo gioco è una cosa un po' a questa casa uguale quella di prima vabbè fa lo stesso perché noi rappediamo tutto lo stesso allora beh quando mi resta altro che salire qui sopra no dai sali 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 bravo ok rompiamo sto lavoro qua dai dai e su e su però ci vogliono degli anni dai su sbrigati che sento delle urla spaventose schifoso ma come dire scavalcarlo no eh vabbè fa lo stesso uno zaino speriamo bene ancora non mi serve la medicina dai per favore ma vai via vabbè allora a questo punto direi che possiamo concludere qua perché ormai ci rivediamo alla prossima puntata speriamo sempre su questo gioco ragazzi perciò bala a tutti e se vi è piaciuto il video mettete mi piace iscrivetevi al canale e adesso corro via e bala a tutti